All'interno del corso STEM e patrimonio culturale vedremo insieme quali strumenti utilizzare nell'atelier creativo per creare dei percorsi didattici innovativi. Non si tratta di un corso tecnico, bensì di progettazione dell'attività. Scoprirai come ideare un percorso in base ai tuoi interessi e la materia che insegni. Nel corso delle lezioni vedremo insieme alcuni esempi di attività didattiche dedicate alla valorizzazione del territorio, ma anche alcuni siti web in cui trovare progetti riutilizzabili rilasciati con licenze aperte. Questo corso fa per te se sei un animatore o un'animatrice digitale, ma anche se insegni materie umanistiche o scientifiche e vuoi integrare gli strumenti delle atelier nelle tue lezioni, per offrire delle nuove opportunità di crescita a studenti e studentesse. Ti aspetto per progettare insieme il tuo laboratorio didattico nell'atelier.